Ci spostiamo con le telecamere sulla griglia di partenza dove tutto ormai sembra pronto. È sempre difficile fare pronostici per una gara come questa, ma i piloti inquadrati in questo momento sembrano decisamente i favoriti. Tutti i piloti sono in griglia. È stato un lungo Eccoci con le immagini E' stato un libro a spIE Ce Compria Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.